Diego, benvenuto. Raccontaci un po' queste emozioni da nuovo giocatore della Roma. Per me è un orgoglio poter essere qui. La verità è che quando è arrivato l'opportunità non me lo pensé, perché per me è un club importantissimo e credo che è un gran passo nella mia carriera. Lo unico che posso dire è che sto molto contento e con molti gani di aiutare l'equipo. Racconti un po' come è nata questa trattativa? Beh, credo che fu al final del mercato quando mi agente mi dice un po' dell'interesse. La verità è che io in un principio non ho pensato muovermi, ma quando è arrivato l'opportunità della Roma non aveva niente a pensare. Simplemente aveva che venire qui e approfittare l'opportunità. L'esordio nel calcio professionistico, stiamo parlando praticamente di dieci anni fa, è arrivato proprio con Giuseppe Mourinho a Real Madrid. Ci puoi raccontare anche un po' che ricordi hai di quel periodo? Guardo ricordi molto buoni, soprattutto di aprendizaggio, perché al final ero in contacto quasi diario o molto a menudo con il primo equipe, con il equipe di Mourinho. E la verità è che aprendi tanto di dei giocatori come anche del corpo tecnico, che sempre si portava bene con la gente che subiamo della cantera, dell'academia. Quindi guardo un ricordo molto felice. E che effetto ti fa invece adesso ritrovarlo a Roma? Beh, al final il tempo passa e sembra che fosse ayer, però hanno passato molti anni. E il fútbol sempre ha dei caminos che non sai a quale ti troverai a trovare in tua carriera. E per me è, come ho detto, un orgullo e sono molto felice di tornare a trovare con lui, perché guardo molto buoni ricordi di lui. Sei un giocatore di esperienza, la tua carriera l'hai passata tra Spagna e Inghilterra. Ti chiedo che cosa ti aspetti in questo momento dalla Serie A? Al final lo che spero è che vengo qui a portare l'equipo, a aiutare l'equipo. E spero un fútbol molto intenso, in cui bisogna essere molto concentrato. Credo che a livello táctico e a livello fisico è un fútbol con un gran livello. E credo, come ho detto prima, che va a essere un gran passo in mia carriera per continuare evoluzionando. Si dice che hai grande utilità tattica perché in carriera hai ricoperto più ruoli. Sì, al final credo che un giocatore deve adattarsi a quello che il mistero vuole. In questo senso, sempre ho sentito che posso giocare in diverse posizioni e posso aiutare al il mistero dove mi voglia. Intentare di portare il massimo all'equipo per ottenere tutto il possibile. Se pensi a Roma e alla Roma, mi dici qual è la prima cosa che ti viene in mente? La prima cosa che ti viene in mente? È bellissima, credo che è una città spettacolare. Credo che il miglior sito dove poter seguir giocando al fútbol è difficile da trovare. e, come ho detto, tanto a nivel deportivo come a nivel personal, credo che è un gran passo in mia carriera. Stamattina c'è stato anche il tuo primo allenamento insieme ai tuoi nuovi compagni. Quali sono state le prime sensazioni? Ho potuto conoscere a tutti i miei compagni, a tutto il staff, tanto tecnico come medico. e si vede una grande famiglia con persone che, che, dal primo momento, mi stanno intentando aiutare e facilitare la mia adaptazione qui. e, bene, lo grazie. E ho anche molto buoni sensazioni in allenamento. E nel giorno, tutto va a migliorare. Diego, arrivi qui alla Roma a gennaio, nel corso della stagione, però arrivi in un momento molto importante, proprio perché la Roma è ancora in corsa su tutti e tre i fronti. Sì, bene, credo che la Roma è in un momento in cui deve essere, compitendo in tutte le competizioni con opzioni di poter fare un gran papel in tutte le competizioni. E, bene, credo che vengo in un buon momento e in un momento per aiutare l'equipo in qualche competizione quando il mister lo decida. Tu hai giocato negli stadi più importanti d'Europa. Sei, però, un po' curioso di scoprire questo Olimpico. Non so se te ne hanno già parlato e di conoscere i tuoi nuovi tifosi, i tifosi della Roma. Sì, chiaro. Credo che, bene, lo ho potuto vedere per la televisione, in grandi partite. L'ambiente che posso vedere è spettacolare. E quando lo posso vivere da dentro mi va a impressionare, sicuro, perché è un stadio, io credo, mítico di qualche club in Europa. Quindi, con muchas ganas di poter visitarlo e poter giocare lì. Ti chiedo un'ultima cosa, se vuoi dire qualcosa ai tuoi nuovi tifosi. Io sono davvero contento di essere qui, perché ho lasciato tutto quello che ho ho, dal primo minuto che ho ho. E molto, grazie. e che ho voglio vedere a tutti i fans in questo stadio.